Robin, ma se devo fare dei video dove mi riprendo come fai tu, cosa è meglio? Diretta o registrata? Allora, la diretta serve per trasmettere in diretta, ma se non succede niente di particolare, se non avviene nulla nel momento che tu la stai facendo, se non te che parli e racconti quello che hai in mente, i tuoi programmi, le tue iniziative, perché la fai in diretta? Tutte quelle cose lì le puoi dire comunque anche in versione registrata, perché se dici delle stronzate o se non viene bene quello che devi dire, puoi comunque rifarla e mettere in onda la versione migliore. La diretta quindi andrebbe utilizzata ogni qualvolta ti trovi in una situazione unica, irripetibile, quando sei ad un evento, ad una premiazione, ad una inaugurazione, in tutte le situazioni dove c'è qualcosa conzione alla fine, va benissimo fare la diretta. In sintesi quindi, la diretta non conviene farla, a meno che sei in una situazione unica che non si ripeterà in futuro, che è speciale, che è solo quel momento lì. Può essere una partita, può essere un evento, una premiazione, ma può essere anche tu che nella notte di luna piena vai in spiaggia a parlare con i gabbiani. In diretta. Se tu parli con i gabbiani a mezzanotte con la luna piena e mi fai vedere queste cose, e tu vai lì appositamente a farlo in diretta per me, ok, ci deve essere un'azione perché valga la pena di vedere la diretta. Video registrati. Questi qua quando li uso? Direi nella maggior parte delle occasioni. Quando hai una riflessione, un tuo pensiero, un'opinione, vuoi recensire qualcosa, vuoi segnalare un libro, un film, un articolo, un tool, ma che bisogno c'è di farlo in diretta? Che puoi mettere lì, seduto tranquillo, accendi la telecamera, la metti bene, e poi gli dici quello che gli devi dire. Gli racconti la storia che hai da raccontare, gli spieghi il tool che hai da far vedere. Nessun vantaggio a farlo in diretta. Lo sai qual è il vantaggio di farlo in diretta, le cose? Perché vedi tutte queste dirette? Uno, perché è una novità. Perché adesso, se tu vai sul tuo Facebook, e vai su facebook.com, non sulla tua pagina, non sul tuo profilo, ma su facebook.com, e guardi al centro, nella colonna centrale in alto, c'è la solita buchetta a cosa stai pensando, ma noterai che lì adesso, oltre a foto e testo, appare vai in diretta. C'è sul Facebook di tutti quanti. Quindi uno, è una novità assoluta. Due, ci sono dei grandi pigri, nel senso, vedono che hanno la possibilità di fare la diretta dal loro smartphone, pensano di fare una figata, nel farlo in diretta, fanno in diretta. Ma l'unico vantaggio che io posso vedere, è che Facebook mi notifica lì nel mondino, in alto a destra, guarda che Antonello Pisolelli è in diretta, o è andato in diretta 20 minuti fa. In realtà, secondo me, si sputtarono un po', perché uno, si mettono lì all'inizio, con questa attesa, no? Aspettiamo che arrivi un po' di gente. Oh, ma... Cioè, se aspettano 6-8 secondi per decidere se guardare un sito oppure no, ma quanti secondi pensi che possano aspettare le persone, quindi? Poi mi saluti chi? Pinco, Caio, persone che non conosco, sembra una cosa tua. Farà piacere a quelli che li saluti? Ma io che non li conosco, due palle, cioè, ma chissò. Poi vai alla lunga, perché non sei abituato a fare le dirette? Te ne vai lungo lì per 10, 20, 30 minuti. Morale della favola. Usa la diretta video per comunicare e condividere situazioni, storie, notizie, avvenimenti, azioni che stanno succedendo di fronte a te, intorno a te, in questo momento, e che sono probabilmente irripetibili. Usa invece le registrazioni per tutto il resto. idee, opinioni, annunci, eventi in arrivo, programmi per il futuro, scoperte, notizie, qualsiasi cosa che non sia qualcosa che sta succedendo in questo momento, va bene in versione registrata.